ciao ragazzi eccoci qua da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale voi pensavate che oggi facevo la recensione dello sky glass ragazzi oggi non ve la metto la recensione dello sky glass perché lo sto ancora testando e voglio capire al meglio come funziona soprattutto per la connessione io purtroppo a casa mia ho dei problemi con la connessione internet quindi sky glass ancora non l'ho installato lo sto provando in ufficio non vi dico come va ve lo dirò durante la recensione e oggi sono qui per parlarvi di una novità la novità è che fino a ottobre uscirà il mio libro tecnico digitale dalla A alla Z e poi ci sarà un'altra novità abbinata al libro quindi per gli iscritti mi raccomando seguitemi sempre e lasciate un like se non l'hai fatto ancora mi raccomando iscriviti al canale e ci saranno e soprattutto dei legali perché non ve lo dico non ve lo dico perché lo scoprirete presto intanto questo era un video di lancio per il mio libro e molto altro ancora le recensioni le lasciamo per questa volta e ci vediamo ai prossimi video mi raccomando ragazzi non ho fatto ancora la recensione dello sky glass perché perché come voi detto lo volevo testare infatti mi sembra cioè è facile testare una cosa una settimana dieci giorni io è quasi un mese che lo sto testando e voglio vedere come va perché in una settimana non riesce a capire come va però l'intrattenimento la tv del futuro sta per arrivare e secondo me sky ha fatto un bel passo avanti quindi ragazzi mi raccomando state attenti perché nei prossimi video ci saranno queste novità ciao a tutti andrà lanciotti il vostro tecnico digitale ciao 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 ciao